Record di presenze anche quest'anno per Borgo Presepe, la suggestiva manifestazione che nel periodo natalizio punta a valorizzare il borgo antico del paese, una vetrina di marketing territoriale per il comune di Canzano che è piaciuto a turisti e visitatori. Consueto successo anche per il concorso Il Presepe Più Bello, organizzato dalla locale Proloco in collaborazione con l'amministrazione comunale che ha visto impegnata le scuole primarie e dell'infanzia del territorio. Nella cerimonia di premiazione che si svolta nei giorni scorsi è stata decretata vincitrice la classe terza D dell'Istituto Comprensivo Radice Ovidio di Sulmona che si è giudicata a 300 euro premio offerto dalla BCC Credito Cooperativo, dal comune di Canzano e dalla Proloco. Al coloratissimo presepe di tegole dipinte dal gruppo di lavoro formato dalle sezioni A e B della scuola dell'infanzia di Roccaraso e dalla sezione A della scuola dell'infanzia di Rivi Sondoli è andato il secondo premio una fornitura di materiale scolastico messa in palio dalla cartolibreria Tollis di Sulmona. Terzo posto per gli allievi della classe quarta della scuola primaria Estriuto Rottrina Cristiana di Sulmona che grazie a una creazione interamente realizzata con la pasta sono riusciti a vincere una fornitura di materiale sportivo offerta da Adria Sport di Sulmona. Sono stati otto in totale presepe in gara realizzati dalla scuola dell'infanzia primaria di Sulmona, Pratola Peligna, Introdacqua, Campo di Giove, Rivi Sondoli e Roccaraso.